Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand a 3.900 gem, quindi che vuol dire? Cosa succede oggi? E come possibilità per questo? Anche la leggere in descrizione Come avere gemme gratis su Clash of Clash Comunque ragazzi, hai 3.900 gem, però prima io direi di fare il chest opening Visto che c'è il culo Sono arrivato in Arena 4 Ah quindi puoi sbloccare il P.E.K.K.A, la Torre Inferno, eccetera Il draghetto No, ma quello ci rinuncia Eh vabbè, vediamo Però adesso, qui adesso ragazzi, se l'Innecan trova subito carte magiche, bene Altrimenti apre il baule super magico Quindi vediamo un po' se facessi tutto Non so, vediamo Vabbè, intanto apriamo quella gratuita Perché tu, con il baule di legno, c'è il culo di trovare tipo il dragon Infatti usa subito quella in legno Due gemme, oltre a disgherri, perfetto Cannone, vabbè E fino adesso non è avuto più Un altro Ok, oro Legno Cannone Cannone Non c'è credo ragazzi, ho messo un consiglio Non è, non è, attenzione ragazzi Benvenuti, benvenuti Non è una carta epica, lo so Però ragazzi, fino adesso non l'ha sbloccata E l'ha trovata nella cassa di legno Dopo Dopo Ok Ricordamelo più tardi, se dico dopo Se dico dopo, me lo devi ricordare più tardi Comunque ragazzi, già hai avuto troppo culo Perché nella cassa di legno hai trovato una carta rara Sbloccare Vediamo questa regola d'argento l'ora Ok, bravi, bravi, bravi Oro Ok, bravo Tesla Moschettiere Carta rara Vabbè Carta rara, ok Capito, mi voglio un'ora C'è gigante Ah, per aprire il moschettiere, guarda che insomma Non è Sì, ma non Oh, puoi potenziare l'ora con i carri? Eh, no, ha potenziato la rara Come no Ok, torre bomba rara, questa mi fa schifo Non l'ho mai provata Però non è proprio neanche così male Dipende da cosa ti trovi contro Sì, è fatto Perché ultimamente Io ho preso attaccare Perché io ho preso attaccare Quattro Ti ciò, guarda che ieri sono fuori di testa Stavi perdendo? No, l'ho fareggiato Ah, boh, vabbè Sì, ma uno era come te Ma te aveva solo gli spawn Cavaliere, attenzione E Ancora l'oro di scary C'è la sua colore di scary Adesso ti manca la cesta d'oro La cesta d'oro La golden chest La golden chest Vediamo, vediamo Super magico Attenzione Attenzione Scary Niente Quindi ragazzi Come promesso Baule super magico Perché hai 3950 gemme Quindi baule super magico Questa, vedi Dove fare questo Ragazzi Attenzione Un momento è catartico Vai, risaga Vai Via 40 euro di gemme Raccoglitori Ho anche un 2640 di oro Perfetto Booo Buoo, giochiera sbloccata BOOM 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 Concelamente sbloccato Da potenziare Tesla BOOM Amore di scuola Dicca BOOM 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 BLOOM BOOM Sì, ma anche da potenziare Solo E' la tua inferno Che l'ha potenziare Ma balloi? Proviamola Proviamola Poi, facciamo un deck Adesso ragazzi vediamo le cose nuove che abbiamo potenziamo il dragon in acestum perché l'abbiamo appena trovato e lo mettiamo nel dragon mettiamo il dragon nel dragon quando io prendo una carta nuova non so mai come usarla allora gli fa dare una zona e aereo quindi mettila al posto di pomparolo giusto 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 la mongolfiera non la vuoi provare la mongolfiera guarda che è forte è forte è forte la gelo gelo mongolfiera super 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 coppia buono no la gelo dove vedi la gelo ho sbloccato prima la gelo ah ho sbloccato anche la gelo la puoi potenziare no non sapeva neanche di aver sbloccato la gelo ragazzi quindi miglioriamo la gelo e io direi di mettere gelo più mongolfiera guarda che è una super coppia si ma non ok io provo a fare un po' di attacchi con questa tecnica casa dei giochi di pecca arena 4 contro imnezio bene ragazzi come inizi come faccio la remuncia buttagli un barile io metto questo di solito perché? ah perché comunque un preparatore la data perché è libero soprattutto gli spazi dal dal deck ok perfetto adesso uso il barile ehi attento ordo di scheletrini potenziata fa il caso tuo metto anche la strega per sicurezza per sicurezza eh guarda ha fatto una cazzata ha fatto una cazzata perché muoiono tutti adesso muoiono sia il principe che il giant pecca cosa fai? metto un giguetto al drago dove? di qua a sinistra eeeh buttalo buttalo proviamolo ah vedi perché lo sceglievo eh 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 giusto giusto perché fa da una zona il drago guarda che bello come questi? chi? ah i goblin arcieri perfetto guarda che forte guarda il drago adesso sta cioè ragazzi la torre va giù la torre va giù con un poco di zucchero la torre va giù e ho butto il barile scusami dillo barile più polvere cannone io uomo di mare tu uomo di terra uomo di merda no oddio fermi allora fai così metti gli arcieri un po' angolati a lato no al centro no ma ci sono i c'è la strega dici? si 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 dai sclettrini dai sclettrini oh ok no 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 il drago 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 ok perfetto oh il drago il drago contro la mongolfiere adesso ma non potrei mordere la mongolfiere il drago che si che si sconfia tanto danno a quella roba è buono però ti ha colpito solo una volta vedi guarda il drago vedi che adesso il drago va colpito la torre centrale guarda che bello lui è costretto a difesa perché perché ne hai fatto? così il pekka si gira quello è vero il pekka lo fai andare indietro cosa hai messo lì? il barile ah quindi hai messo contro il pekka il barile lo faccio andare nel suo attenzione però perché ti li fa fuori tutti aspetta che venga un po' avanti no no strega strega anche tu strega 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 ora 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 oh che botta di perfetto ragazzi salva la torre salva ottimo ora dall'altra parte metti la mongolfiera ora adesso metti la mongolfiera dall'altra parte aspetta oh oh guarda va giù la tesla vai vai metti la mongolfiera perfetto perfetto adesso va verso la tesla eh ma adesso va verso di là metti la zero sulla appena no si 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 ok va bene si si è giusto è giusto è giusto cosa no allora boom perfetto le due colpe gli dà no aspetta 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 orda orda perché devo andare metti il draghetto il draghetto che fa da una zogra perfetto ok vedi che ho giusto tutti gli sgherri attenzione no no dall'altra parte occhio occhio la zelo no anzi no la strega cosa hai pensato messo la zelo ok adesso spear goblin perfetto tre due no dieci secondi dai dai che guarda la zelo ti sta salvando la zelo si veramente la zelo ti ha salvato adesso ragazzi la zelo lo ha salvato barine alla torre centrale boh ma no ci stava devo vincere qui hai vinto comunque va bene non hai vinto con tre colone utilizzerò meglio questa è un aroma un po' strano no è forte è forte ragazzi quindi devo imparare bene come si usa no però devo dire la zelo ti ha salvato veramente il deretano quindi ragazzi se vi è piaciuto diricate tanti ben mi piace mi raccomando continuate a iscrivervi al nostro canale se volete sapere come fare tanta jam guardate il video perché iscritto andate in descrizione ciao a tutti a tutti i prossimi video ciao a tutti i prossimi video